Nel segno della comunità, della vicinanza, dello stare dalla stessa parte, istituzione, cittadini e per esserci sempre, è tempo il 6 gennaio 2023 del ritorno della Befana del Poliziotto, evento organizzato dal Sindacato Autonomo di Polizia. Dopo due anni di sospensione causata dalla pandemia abbiamo voluto riniziare con il sorriso dei bambini. Questa è una manifestazione storica che apparteneva al disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Negli anni passati era riservata alle famiglie dei poliziotti, noi invece l'abbiamo voluta estendere a tutta la collettività. Tra danza e magia un evento dall'alto significato morale, culturale e sociale. Questa è una bellissima manifestazione organizzata da un sindacato della Polizia di Stato, ma è come se fosse una festa di tutta la Polizia. Noi come Polizia siamo sempre stati e lo saremo sempre vicini alla gente. Si svolge a Grottaglie per abbracciare l'intera provincia ionica. Gioia e stupore dei piccoli si mescolano con il piacere di ritrovarsi. È stato bello potersi ritrovare dopo due anni in cui purtroppo questa manifestazione non si è potuta fare. Come dicevo prima è stato bello vedere un palazzetto pieno di bambini che di nuovo sono tornati a stare insieme, a divertirsi e a giocare. Ed è forse la cosa che più ci è mancata in questo periodo. Per esserci sempre, nel tempo. Buon 2023 a tutti. Grazie a tutti.